ce l'ho qui che pinzo a cano pinza pinza dai ma quanto tiri ma cos'è sta roba vai vai ah ma mi stai guardandolo? no ma che schivata che culo di merda ho stentato prima io stronzo poi invece ho preso di nuovo l'anello al contrario sucrate come cazzo ho preso questo oddio oh mio dio minchia questi muri qua sono nuovi nooo ooo requisi nooo ooo nooo 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 Ah dai! Non hai calcolato quello che c'erano di prima? Nooo! Nooo! John C! Ah! L'ho prelegata una! E ora scappo forte! C'è un tipo rosso! C'è un tipo blu che vuole prendere la martellata! Prenditela! Sto tiltando! Come cazzo sei passato? Mamma mia! Che stile! Attenzione attacco sulla fascia! Granda! Granda! Ma nooo! Che ti ha detto che hai una palla in testa? Dai raga! Due palloni ci sono! Uno ci deve andare! No! Ho sbagliato la direzione! Nooo! Nooo! In solito fa il gol! Ma nella porta sbagliata! Nella porta sbagliata! Disnaz! Comando! Se non vestendio guarda! Ah ok! Che sicuro no! Oddio! Oddio! Mamma mia! Oddio! Oddio! Aiuto! Ma! Chris! Che cazzo stiamo facendo? Siii! Ma che fanno sti qua oh! Che fanno sti qua oh! Seconda volta! Ma che stanno facendo questi due qua! Oddio! Dov'è cazzo è volato quello là! AIA! Che martellata! Aia che botta! Non è la migliore delle destre! Oh! Sto qua! Sto qua! Sto qua! Aia che botta! Non è la migliore delle destre! Sto qua! Aia! Me lo sono presa dritta nei denti! Oh oh! Ostia! Sto qua! And this way! Oddio! Aia! Ma non è la migliore delle estremamente! Oh! E' la migliore delle destre! Però sono fottio di posizione. Oddio! Che cazzo è successo? No, 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 no! Mi sono sbattuti contro... Tutti... No, c'è il martello che m'ha martellato. Oddio! Hanno sparsi tutti! No, no, no! Cazzo! Si sono lanciati! Quattro, nessuno l'ha presa! No, l'ho preso! Ho devo fare una merda di qui! Cazzo! Ciao!